Scusa mia, che è l'anno prossimo quando vengo per il controllo! Ok, io mi associa, super! Mi chiamo Saitani Adda, niente, sono a casa, a casa d'Inga. Abbiamo problemi di denti in generale, i denti erano proprio, non vanno bene. No, i denti mi fanno male, vado con gente di dentista che vado, mi metto i denti, però sono sempre lo stesso problema. Perfetto, adesso rido, c'è un bel sorriso e spero che mi porterà tantissimi sorrisi e grazie a voi, perché, prima di tutto, il lavoro va benissimo e poi voi siete proprio veramente gentili, tutto va bene, tutto bene. Sono rimasta una settimana e veramente bene, bene, bene. Della logistica, delle ragazze della clinica e soprattutto dottor Palmas e Vladimir. E questi qua sono proprio Vladimir, una cosa, ha una mano d'oro. Ragazzi, veramente, non sto dicendo niente di, tanto per dire, il dottor Palmas, un amore, un cuore e dentro di lui c'è il dottor Palmas, detto questo e detto tutto.